Sul tema ASPIC c'è una procedura. La procedura è in corso. Abbiamo acquisito anche i nuovi elementi, non solo relativi alle indagini, ma anche nuovi elementi di analisi che sono stati fatti da esperti e da chi nelle istituzioni è preposto a farlo. Quindi arriveremo alla fine della procedura senza sconti e scegliendo la soluzione migliore. Io ho già detto che su tutte le altre concessioni autostradali il Ministero provvederà alla procedura di revisione delle concessioni anche alla luce della delibera dell'autorità dei trasporti. Noi non dimentichiamo quello che è accaduto, io l'ho vissuto su un altro fronte, non ero Ministro, ero una semplice parlamentare della Repubblica, ma l'ho vissuto con lo stesso dolore con cui lo hanno vissuto i genosi e quindi saremo conseguentemente capaci sul piano istituzionale di dare seguito a quelle che sono le dichiarazioni che abbiamo fatto in questa prima fase di insediamento del Governo.